Mi chiamo Olli e sono il cane della fattoria. Adesso vi insegnerò a leggere l'orologio, perché anche nella fattoria gli orari sono molto importanti. L'orologio ha due lancette. La più piccola segna le ore, la più grande segna i minuti. Quando la lancetta piccola si trova sopra il numero 8 e la lancetta grande si trova sopra il numero 12, sono le ore 8 in punto ed è l'ora di fare una buona colazione. Poi il tempo passa e quando la lancetta piccola si trova sopra il numero 10 e la lancetta grande si trova sopra il numero 12, sono le ore 10 in punto. L'ora di fare una buona merenda. Poi il tempo passa e quando la lancetta piccola si trova sopra il numero 12 e anche la lancetta grande si trova sopra il numero 12, è mezzogiorno in punto. L'ora di fare un buon pranzetto. Poi il tempo passa e dopo mezzogiorno siamo nel pomeriggio e piano piano arriviamo fino alla sera. Piano piano comincia a fare un po' di buio e quando la lancetta piccola è sopra il numero 7 e la lancetta grande è sopra il numero 12, sono le 7 di serra in punto. L'ora di fare un po' di buio e quando la lancetta piccola è sopra il numero 9 e la lancetta grande è sopra il numero 12, sono le ore 9 di sera in punto ed è l'ora di andare a nanna. Ora sapete leggere le ore, ma come si dividono le ore lo saprete nel prossimo clip.